Volevo condividere con voi questa cosa, cioè lei ovunque mi sposto sta con me Cioè raga io non ce la faccio, io l'amo troppo, guardate adesso io mi sposto, vado in casa, vediamo Dai amore mio No ragazzi va un caldo, va un caldo, non avete idea, c'è stato pure il black out, la luce è ritornata da poco Fa caldissimo, cioè io i capelli bagnati sono asciugati in tre secondi, adesso non ce l'ho Nipotini miei, adesso il Paolo Masella workout, sapete che io ho due fisse, una sono i momenti dog Quindi tutti i dog del canale finiscono sui miei video sicuramente E un altro è Paolo Masella workout, non so la dedizione a questo ragazzo, io gli auguro sempre il meglio E chiudo con le foto del giorno, un bacione, ciao